Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si affiancano delle pagine verticali ed orizzontali all'interno dei fogli di videoscrittura. Questo è un pochino un problema, soprattutto gestendo la numerazione a partire dalla prima pagina. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, ma in pratica questo discorso è affine anche dal punto di vista concettuale all'interno di Excel. Allora noi vediamo il nostro foglio di videoscrittura. Vedete, se noi andiamo nel menu Visualizza e gli diciamo Pagina Intera, noi ci rendiamo conto che la prima pagina è ovviamente verticale. Allora noi diciamo che qui vogliamo fare un'introduzione in verticale e dopo vogliamo mettere una grafica in orizzontale, quindi l'introduzione non deve avere neanche il numero di pagina. Allora facciamo così. Scriviamo subito in titolo 1, mettiamo un pochino più grande la fonte perché si vede a casa e ci scriviamo Introduzione. E facciamo invio. Se noi clicchiamo nel Piedipagina, noi ci rendiamo conto che viene assegnato il Piedipagina predefinito. Così non va bene perché noi vogliamo un'introduzione senza numeri di pagina e poi altre pagine che ripartano da 1. Quindi quello che bisogna fare, bisogna andare in questa barra laterale e selezionare gli stili e in particolare vedete selezionare questa icona qua che dice stile di pagina. È qui che noi gli diciamo che questa prima sezione del nostro documento deve essere etichettata come prima pagina, non come stile predefinito. Se noi lo doppio clicchiamo, noi vediamo che adesso, se lo riselezioniamo un'altra volta, vedete che adesso il Piedipagina viene etichettato come prima pagina. Questo ci consente di ripartire con la numerazione delle pagine dalla seconda in poi mettendoci 1 senza influenzare questa pagina. Adesso lo stile di questa pagina qua è diventata prima pagina. Come facciamo ad introdurre, possiamo chiudere questa barra, come facciamo ad introdurre la grafica nella seconda pagina in orizzontale? Andiamo nella barra Inserisci e vedete all'interno di questo menu Inserisci c'è l'interruzione manuale. Cioè noi dobbiamo fare un'interruzione di pagina perché altrimenti queste sezioni si influenzano fra di loro. Facciamo interruzione manuale, vedete di che cosa di pagina, con quale stile di pagina? Bene, noi ci mettiamo una pagina orizzontale e noi gli diciamo che deve partire, vedete, allo strumento da 1 perché altrimenti lui mi scrive lo strumento pagina 2 contando anche la prima pagina. Facciamo ok e vedete che noi abbiamo adesso creato due pagine. L'introduzione ha uno stile di pagina in prima pagina e la grafica ha uno stile di pagina chiamato orizzontale. Qui possiamo nuovamente creare un titolo e qui ci scriviamo grafica, ad esempio. Facciamolo un pochino più grande affinché si veda da casa. Noi lo mettiamo in stile 32. Come si fanno a mettere i numeri di pagina? Semplicissimo, si clicca qui, vedete che noi abbiamo attivato il piedi pagina, si preme il più vedete e il cursore è entrato all'interno. Mettiamo la destra, facciamolo sempre più grande affinché si veda a casa e noi ci scriviamo pagina. A questo punto se noi andiamo nuovamente nel menu inserisci e andiamo in comando di campo quello che una volta veniva chiamato in realtà codice di campo, è un pochino più corretto. Cioè sono delle entità dinamiche che non vengono influenzate da altre attività dell'utente e ci scriviamo il numero di pagina. Vedete che lui è partito correttamente da uno, perché la prima pagina noi l'abbiamo etichettata con lo stile di pagina prima pagina e la seconda è quella della grafica. Quindi a questo punto lui, dovenno mettere il numero di pagina, mette correttamente l'uno. Quindi se io qui adesso per esempio faccio, posso quello che posso fare tranquillamente è dato che prima ho avuto un'introduzione, poi ho avuto una grafica e partire con il capitolo uno. Andiamo nuovamente nel menu inserisci, andiamo nuovamente in questo sottomenu interruzione manuale e noi gli diciamo un'altra interruzione di pagina, ma come? Con lo stile di pagina predefinito. E qual è il predefinito? Vediamolo un pochino, facciamo ok. Vediamo che il predefinito è a tutti gli effetti verticali. Quindi abbiamo in questo documento, che non sembra così complesso, ma è complesso, tre stili di pagina, perché l'introduzione ha uno stile di pagina prima pagina e non ha il numero di pagina. La grafica ha uno stile di pagina definito orizzontale e ha il numero di pagina. La terza pagina, vedete, ha uno stile predefinito, è verticale e non ha nessuna pagina, nessun numero di pagina. Lo possiamo fare come sempre, clicchiamo il piedi pagina, andiamo nel menu inizio, facciamo destra, noi aumentiamo la fonte soltanto perché si deve vedere da casa, facciamo pagina, facciamo uno spazio e se andiamo nel menu inserisci comando di campo o codice di campo e facciamo numero di pagina, vedete che lui correttamente adesso ci parte da pagina 2. Quindi pagina 1 e pagina 2. Il documento è complesso perché vedete pagina 1 è orizzontale, mentre pagina 2 è verticale. A questo punto nulla ci vieda di poter fare, nuovamente così, fare inserisci, sempre, inserisci, interruzione manuale, di che cosa, sempre pagina predefinita, facciamo ok ed ecco che ce ne viene un'altra verticale, qui vedete già è numerata, quindi qui noi che cosa ci facciamo, noi possiamo fare questo qua, per esempio lo trasformiamo in capitolo 1. In questa pagina noi scriveremo il capitolo 1, mentre in questa pagina noi scriveremo sempre con il titolo questo qua, con titolo 1, noi scriveremo il capitolo 2. Allora ecco che noi adesso abbiamo un documento in cui la prima pagina ha una sezione sua particolare che viene definita dallo strumento prima pagina, in cui scriviamo l'introduzione, d'accordo? E poi praticamente possiamo avere una grafica in orizzontale con stile di pagina orizzontale e il numero di pagine pagina 1, poi abbiamo il capitolo 1 in uno stile predefinito verticale pagina 2, il capitolo 2 in uno stile predefinito pagina 3. Ma nulla ci vieta, se per esempio la nostra introduzione costa di più pagine, nulla ci vieta di andare sempre nel menu inserisci, fare inserisci, interruzione manuale e vediamo se troviamo prima pagina nuovamente. Vedete, noi facciamo così, ok, ed ecco che la nostra introduzione adesso consta di due pagine verticali, ma posso farne ancora di più, vado nel menu inserisci, sotto menu inserisci, interruzione manuale, sempre quale stile di pagina, prima pagina, faccio ok, ed ecco che la nostra introduzione costa di tre pagine, ma come vediamo non c'è il numero di pagina perché noi non abbiamo attivato il pie di pagina e non influenza in nessuna maniera la seconda parte del documento in cui c'è una grafica orizzontale con pagina 1, c'è una grafica, poi c'è un capitolo 1 con pagina 2 e un capitolo 2 con pagina 3. Bene, questa è la maniera di alternare pagine verticali a pagine orizzontali e di creare sezioni del documento in cui siano presenti i numeri e sezioni del documento in cui i numeri di pagina non siano presenti. Nulla ci vieta nella introduzione, come talora si fa, cliccando lo facciamo più, vedete, noi possiamo andare nuovamente a destra, noi lo mettiamo a destra e lo facciamo grande solo perché si veda a casa, nulla ci vieda a questo punto di, vedete, di introdurre un altro pie di pagina che viene numerato in una maniera differente, tant'è vero se io vado nel menu inserisci, gli dico comando di campo e ci metto il numero di pagina, vedete che lui riparte da 1, 2, 3, ma se noi lo doppio clicchiamo, questo che è un codice di campo dinamico, possiamo scegliere, vedete, una differente maniera, una differente nomenclatura e solitamente per esempio si fanno i numeri romani, clicchiamo i numeri romani, facciamo ok e vedete che fa pagina prima, pagina seconda, pagina terza nell'introduzione verticale e poi ricomincia da 1 nella grafica orizzontale e continua da 2, vedete capitolo 1 e 3 capitolo 2. Questo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo non solo creato delle sezioni differenti in cui il layout di pagina fosse verticale in una e orizzontale in un'altra, ma abbiamo scollegato l'elemento pie di pagina mettendo i numeri romani nella prima sezione del documento, vedete, i numeri arabi nella seconda sezione di documento, come si fa? Attivando il pie di pagina e creando uno stile di pagina, prima di pagina, replicandoli in maniera da scollegare queste due sezioni dei documenti. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine, spero che sia stato interessante per voi e soprattutto che sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.